Sì, infatti siamo arrivati a Mazzia, ma non è grande il terzo di fare a me, questo è una impressione, sicuramente il terzo del terzo, la qualità si sta sfruttando con un suo aspetto atletico, con una stracolare, meno intensità, io se ne fossi un po' di riuscire a vedere. Senti, abbiamo poi negli occhi la bellissima gara a tre punti che hai vinto a Diego, se non si arrivi in campo, la palacanestro si può riguardare il romano, per riguardare la sua storia, la sua potenza dice Luca Algarri in campo, ed è argento, forse è il modo per far riguardare la palacanestro che vive un momento in mezzo a me. Ma io non mi dico molto nel passato, è bello riguardare, però ci sono tanti giorni interessanti, per capire quale sia per la gattina dello sport e per Brescia oggi, fa le radio croniche per la centrale della Brescia, fa le radio croniche per la centrale della Brescia, che dovrebbe essere quello di un 4-3, un 4-3 italiani, di un minuto e 5-6, un minuto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!